Santa Verdiana di Castelfiorentino. Nata nel 1182 da una famiglia nobile, gli Attavanti, rimase orfana di entrambe i genitori in tenera età. Affidata alla misericordia dei vicini, una volta cresciuta si guadagnò da vivere come garzona presso piccoli proprietari di Castelfiorentino. San Francesco, suo coetaneo, nel 1221 andò a farle visita nel suo romitorio e l'ammise al terzo ordine francescano. Iniziò il suo percorso di purificazione spirituale attraverso la pratica del pellegrinaggio, favorita dalla Fatinerari Valdelsiani. Dopo un primo viaggio a Compostella, presso la tomba di San Giacomo, si recò a Roma per trascorrere una quaresima di penitenza. Morì nel 1242, murata nel suo reclusorio, dove viveva con due serpenti. È patrona della comunità di Castelfiorentino.